Noi vorremmo sottrarre la giornata della donna, che non è una festa, ma è una giornata di ricordo e di lotta, da quella che era diventata negli ultimi anni, cioè la pizza, la festa, addirittura si era arrivata al punto di andare a balletti con uomini nudi, eccetera. Noi vogliamo dire che noi donne siamo diverse, noi donne siamo qualcosa in più. E' per questo che abbiamo messo insieme con Isabella Bonfiglio, la nostra consigliera di parità della città metropolitana, abbiamo messo insieme un ricchissimo cartellone con tutte le iniziative di tutti i comuni della città metropolitana.